Ciao a tutti gli amici di Bici Dennis Grosseto, siamo con Alessio Policchi, semifinalista di questo torneo Open da Milde qui al Cinti Grosseto. Com'è andata la semifinale Alessio? Abbiamo giocato bene, si poteva mordere un po' di più nel momento centrale, però abbiamo perso i vincitori, ci può stare. Bene, e Pardini come si è comportato? Pardini è oltre che bello, ti sto facendo i complimenti, vieni un attimo. Oltre che bello è che è veramente forte, se avesse un po' meno di braccino sarebbe veramente forte, forte. Ecco a che Pardini nel frattempo, tieni Simo. Non senti le cazzate che stavo dicendo. Che ne pensi invece te di questo semifinale? No, oggi sono un po' tornato, siamo divertiti, ho giocato bene. Io per la prima volta mi sono schierato a destra, non mi sono divertito. Non abbiamo bestemmi ora. Prossimi impegni di coppia, prossimi impegni di coppia? Gli italiani a faenza, anzi no, domenica burla, e poi a faenza per gli italiani, vediamo un po' come succede. Un saluto agli unici per i cittadini sglesseto. Ciao a tutti. Sì, beh.